Buongiorno a tutti, benvenuti alla consueta conferenza stampa di mister Andrea Pirlo. Come sempre vi chiedo una domanda a testa e iniziamo con Enrico Zambruno di Juventus TV. Buon pomeriggio mister, le chiedo qual è l'aspetto che più l'ha soddisfatta della partita contro il Sassuolo che vorrebbe rivedere domani contro l'Inter? Abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante veniamo da una sconfitta brutta contro il Milan, c'è stata una buona reazione perché non era facile reagire a questo tipo di sconfitta. Invece abbiamo fatto una partita di squadra, ci siamo aiutati, belli compatti, anche nelle difficoltà siamo riusciti a superarle, giocando sempre tutti insieme. Quindi questo è stato l'aspetto più positivo perché avevamo bisogno soprattutto di ritrovarci a livello di squadra. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno. Considerato che ultimamente ha avuto a disposizione la rosa al completo, abbiamo visto che ad esempio nella partita col Sassuolo ha cambiato sei uomini rispetto alla partita con il Milan. In particolare volevo chiedere sulla difesa perché contro il Sassuolo ha riposato Danilo e ha riposato Bonucci, contro il Milan scusa. Contro il Sassuolo non c'era Chiellini e non c'era Quadrado, domani ci aspettiamo fuori De Ligt e Alexandro? No, adesso Alexandro no, di sicuro perché poi è squalificato anche nella finale di Coppa, quindi giocherà sicuramente, poi gli altri vedremo perché dobbiamo recuperare ancora energia, abbiamo fatto la partita l'altra sera, abbiamo viaggiato di notte, siamo tornati tardi e quindi la cosa più importante adesso è recuperare le energie per domani sera. Simone Malagutti, Sport Medi7. Sì, buongiorno mister, senta lei ultimamente dopo il Milan ha detto avevo in testa un progetto, mi sono dovuto adattare poi, è solo una questione l'adattarsi di giocatori con caratteristiche non in linea con quel progetto o è stata anche una scelta dettata dall'esigenza di un club che deve sempre vincere, non può aspettare lo sviluppo di un progetto e alle prime frenate impone di badare al sodo? C'è stata anche questa componente? No, no, ho già risposto l'altro giorno, volevo dire che mi sono adattato alla caratteristica dei giocatori, tu Mari hai in mente un certo tipo di gioco ma poi ti accorgi che quando alleni i giocatori che hai a disposizione non sono Mari quelli che hai in testa perché Mari non li conosci bene, quindi quando sei qua poi vedi quello che possono fare e vedi come è meglio metterli in campo, quindi non ho detto che mi sono adattato per altre esigenze, mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori come devono fare tutti gli allenatori, non puoi decidere tu o inventarti dei giocatori, devi mettere in campo quelli che hai e devi farlo al meglio mettendoli nelle posizioni dove possono rendere di più. Siamo a Guido Vaciago, tutto sport. Buongiorno Andrea, alla luce della partita della prestazione di Reggio Emilia che concordo con te è stata una partita di squadra, è stata una partita in cui si è vista compattezza e aiuto reciproco, quanti rimpianti hai? Non si poteva vedere quel tipo di prestazione in almeno un paio delle partite alla portata della Juve nelle quali poi la Juventus ha perso punti che ora potrebbero essere esiziali per la qualificazione alla Champions League. Sì, infatti dispiace soprattutto per quello perché in certe occasioni ci è mancata proprio quella compattezza, bastava veramente poco per raccogliere qualche punto in più che ci sarebbero serviti adesso per la lotta sia del Champions che per il campionato. Invece durante la stagione abbiamo avuto questi cali di tensione, non eravamo come l'altra sera concentrati al massimo sull'obiettivo, poi succede che quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite poi perdi i punti per strada che ti costano poi i campionati. Luca Bianchina, Gazzetta dello Sport. Mister, buongiorno. Visto che degli errori ci sono stati, le volevo chiedere se ce n'è uno in particolare che tornando indietro è sicuro non rifarebbe. Poi se vale la seconda domanda, se posso, se in attacco, come sembra, giocheranno Dybala e Ronaldo. Grazie. Ma non so ancora chi giocherà, come ho detto prima, perché dobbiamo recuperare, vedere chi sta bene per poter dare il 100% domani che è una gara fondamentale. Errori ce ne sono stati tanti, però adesso non è che posso unire qua a raccontarvi. In testa ho già tutto e alla fine dell'anno farò degli esami, parlerò di quello che avrò fatto con il mio staff, quello che abbiamo fatto bene, quello che abbiamo fatto male, esaminare un po' tutta la stagione. Però se siamo a questo punto della stagione vuol dire che di errori se ne sono stati fatti e cercherò poi nel futuro di non commetterli più. Giovanni Albanese, Sport Italia Sì, buon pomeriggio, mister. Alla luce dei tanti impegni giocati e in programma e del problema fisico che hai avuto, le chiedo come sta a chiesa, se va gestito, se può garantire un minutaggio lungo. Grazie. No, no, sta bene. L'altra sera ha fatto una buona partita, sta sempre meglio, è riuscito a scattare senza avvertire dolore, quindi questa è una cosa molto importante. Adesso sta recuperando e quindi domani sera penso possa essere a disposizione. Luca Cavallero, tutto Mercato Web Radio Buon pomeriggio, buon pomeriggio, mister. Volevo chiedere al tirale del corso degli eventi una valutazione tecnica. L'organico dell'Inter era effettivamente più competitivo rispetto a quello della Juventus, a suo giudizio? Grazie. Ma non lo so se era più competitivo o no, però se sono arrivati a vincere il campionato vuol dire che hanno fatto meglio, sono stati più regolari in tutta la stagione, hanno avuto sicuramente più fame di noi perché venivano da tanti anni senza successi e questi hanno portato a fare anche qualcosa in più. Però le due rose sono due rose molto valide e loro però sono stati più bravi. Giorgio Musso, calciamercato.it Salve mister. Le chiedo se ha dei rimpianti per non aver avuto la possibilità di utilizzare durante tutta quella stagione sia Ronaldo che Di Bala e se oltre al presente li vede anche alla Juventus per il futuro. Grazie. Ma nel futuro sicuramente, nel presente sicuramente dei rimpianti ci sono, ma come per tutti gli altri che non ho avuto disposizione, quando come ho detto prima non riesci ad arrivare all'obiettivo che ti sei prefissato all'inizio anno, per forza devi avere dei rimpianti. Altrimenti non saresti un allenatore in grado di poter vincere o in grado di essere ambiziosi. Io lo sono e quindi i rimpianti devi sempre averne. Nicola Gallo, Videogruppo. Ambiziose, quindi i rimpianti. Buongiorno Andrea. Se il fatto di trovarsi di fronte alla squadra che vi ha preceduto e quindi scucite lo scudetto sul petto può essere una motivazione maggiore, una partita che di motivazioni mi ha già tantissime e quindi come è l'aspetto mentale della squadra e se importa ci sarà un'altra staffetta. Sì, sì, questa deve essere una cosa che ci deve bruciare domani, vedere la squadra che viene allo Stadium come nuovi campioni d'Italia, una cosa che ci deve dare qualcosa in più per domani sera, non solo per questo ma anche per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere perché abbiamo ancora delle possibilità per centrare la Champions e quindi domani dobbiamo avere una grande voglia di vincere la partita per tanti motivi ma soprattutto per la classifica. Importa, sì, cambieremo, giocherà Tech. Emanuele Gamba, La Repubblica. Buon pomeriggio Andrea, voglio rimanere anch'io sul tema delle motivazioni. Tu che conosci molto bene Conte, pensi che avrà delle motivazioni particolari domani e che le avrà trasmesse la squadra proprio perché gioca contro di voi, cioè contro la Juve, contro la squadra con la quale ha avuto oggettivamente quest'anno dei problemi anche a luce di quello che è successo in Coppa Italia. In poche parole, pensi che l'Inter verrà qui per cercare prima di tutto di fare un dispetto? Sì, sì, arriverà con la formazione migliore, cercheranno in tutti i modi di vincere la partita conoscendo il mister ma conoscendo cosa vuol dire anche Juventus-Inter a livello proprio calcistico. Quindi loro arriveranno per fare la grande partita con la miglior formazione, prepareranno al meglio questa gara perché è importante non solo per noi ma anche per loro per far vedere che sono i campioni d'Italia e vorranno dimostrarlo domani sul campo. Antonio Paolino, Radio Bianconiera Ti chiedo schiettamente a questo punto, questo Scudetto l'ha vinto concretamente Conte, l'Inter, la voglia di vincere e di aprire un ciclo da parte di qualche altra squadra o ha contribuito pesantemente anche la Juventus, la tua Juventus? Grazie. Ma l'ha vinto l'Inter e le altre l'hanno perso, la Juve compresa, perché quando uno vince le altre perdono quindi c'è sempre un insieme di cose quando una riesce a vincere e le altre non riescono a farlo quindi complimenti all'Inter ma noi sicuramente potevamo fare molto di più. E chiudiamo con Simone Di Noi, anzi le ultime due domande, Simone Di Noi tutto il mercato web. Buon pomeriggio mister, le chiedo, ci ho detto qualcosa dal punto di vista degli uomini che avrà a disposizione e utilizzerà domani le chiedo di Demiral se ci sono possibilità che parta dall'inizio. Sì, ho recuperato dall'infortunio, adesso si sta allenando con la squadra da un paio di settimane l'altro giorno poteva giocare dall'inizio perché Bonucci all'inizio gara aveva un problemino al polpaccio sì, è a disposizione e potrebbe anche iniziare. E chiudiamo con Gianluco Dennino della Stampa. Sì, buongiorno mister, io volevo solo chiedere una curiosità nel pre-partito se ci sarà una cosiddetta passarella d'onore come ha fatto la Sampdoria con l'Inter o se invece visto che Juve-Inter si giocherà perché Juve-Inter. Grazie. Ma non lo so se ci sarà, noi comunque abbiamo già fatto i complimenti all'Inter sia al presidente sia alla società con i complimenti alla loro quindi poi domani vedremo cosa ci diranno di fare. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti.